Musica Capita spesso di arrivare di corsa e non avere il tempo di preparare il pranzo ma la fettina in padella ci salverà Musica Per prima cosa iniziamo facendo scaldare una padella sul fuoco Aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva e non appena sarà caldo mettiamo l'aglio in camicia Lo prepariamo in questo modo usando la lama del coltello e applicando una leggera pressione per schiacciarlo delicatamente senza esagerare Mentre l'olio inizia a profumarsi con lo spicchio di aglio possiamo aggiungere la fettina di vitella Usiamo una fiamma dolce per non far bruciare la carne Trascorsi alcuni minuti possiamo girare la fettina di vitella dall'altro lato per continuare la cottura A questo punto possiamo aggiungere del pepe e del rosmarino per profumare la nostra fettina in padella A piacere possiamo sfumare anche con un goccio di vino bianco Qualche istante ancora e possiamo spegnere la fiamma e procedere a servire la fettina in padella Visto? Bastano solo 3 minuti Mmm, perfetta Mmm, mmm Grazie a tutti Grazie a tutti.